Presentato al macro il progetto Open Data Lazio, finalmente online il patrimonio informativo pubblico della Regione, fruibile gratuitamente da tutti gli interessati, disponibile dal 1 aprile, sarà portato a termine con l'aggiornamento di tutte le sezioni tematiche entro fine maggio. L'iniziativa affonda le radici nella legge regionale del 2012, a disciplina della trasparenza amministrativa territoriale e in attuazione dei diritti dei cittadini. Vengono così rispettati i principi cardine dell'open government, vale a dire chiarezza, collaborazione e partecipazione. Chiunque potrà consultare liberamente i dati relativi a spese, attività produttive delle diverse strutture, anche ospedaliere, esercizi finanziari, pagamenti posti in essere dalla Regione e relative tempistiche. Vero e proprio catalogo di informazioni, Open Data consente anche una valutazione dei diversi dirigenti a partire dalle cifre che ne testimoniano l'operato. Si pone infine come vetrina internazionale delle attività laziali, al fine di attirare commesse estere e procedere al rilancio dell'economia di zona, soddisfatto Zingaretti. Da oggi iniziamo tutti i dati della Regione Lazio, quelli che saranno nei cassetti saranno pubblici. L'apertura dello sportello Open Data poi significa questo, raccogliere tutte le banche dati sulla spesa, sulla sanità, sui lavori pubblici, sui dati che ci sono sulla popolazione, i documenti, tutte le banche dati e saranno e sono da oggi, cominciano ad essere pubblici e a disposizione dei cittadini. Questo è un fatto molto importante perché è uno di quegli anticorpi di cui spesso si parla per la legalità, innanzitutto perché avere conoscenza di quello che accade è anche un anticorpo per prevenire e per essere vigili su tanti temi. È una grande opportunità per crescere perché conoscere i dati e le banche dati permette a tanti di elaborarli, di inventare nuove app, di migliorare la qualità dei servizi, di lottare contro la burocrazia e soprattutto è un modo di mettere la pubblica amministrazione al servizio dei cittadini perché ovviamente ascolteremo suggerimenti, chiarimenti, opportunità di cambiare. Non è un caso che partirà questo Data Lab Lazio Tour, la prima data è a Formia il 9 aprile, cioè andremo nei territori a parlare con i cittadini, con i sindaci, con le pubbliche amministrazioni per dire ora basta, è il tempo di credere in questo strumento tecnologico per cui tutto deve essere accessibile e conosciuto. E per il Lazio è una incredibile e straordinaria rivoluzione che peraltro si inserisce in quella che è l'agenda digitale del Lazio. Voi ricorderete alcuni giorni fa abbiamo lanciato l'obiettivo Banda Larga e quindi la diffusione della Banda Larga. Oggi la presentazione del portale è un altro tassello di questa agenda digitale che va avanti. Grazie. Grazie.